Bella raga, siamo tornati qua oggi con un nuovo episodio di TGIpe come tutte le domeniche quando non sono in ritardo per una volta il video sta scendo il giorno giusto, l'ora sarà tardissimo perché sono le 4 di pomeriggio e lo sto registrando ora scusate ma meglio farlo il giorno giusto in ritardo che non farlo come al solito prima di iniziare vi chiedo per favore di iscrivervi al canale, mi farebbe un botto piacere siamo vicinissimi ai 20.000 iscritti e vorrei arrivare al centro alla fine del mese sono una roba con 1.500 iscritti, ce la possiamo fare raga, per favore iscrivetevi, condividete i video fate quello che volete, basta che riusciamo ad arrivare a questi fantomatici 20.000 iscritti entro la fine dell'anno mettete mi piace anche se state spaccando i like in tutto questo ultimo periodo, vi ringrazio tantissimo passate la mia Instagram come sempre qua sotto in descrizione e cominciamo subito la prima notizia riguardo una collaborazione fra Adidas e 032C durante la sfilata di Londra 032C praticamente sono state presentate delle scarpe e dei boot fatti in collaborazione con Adidas per ora non si sa niente nel prezzo, né quando verranno rilasciate, né un cazzo solo che boh a me semplicemente non dicono niente, io non sono un tipo da military boot da queste cose qua però di questi qua fondamentalmente io non vedo un cazzo di Adidas, cioè non mi ricordano nulla di Adidas a parte vabbè le three stripes sul lato, boh sincero non mi gasano più di tanto mi sembrano i boot abbastanza normali, carini per la gente che mette ste scarpe però a me fanno un po' cagare la seconda notizia tecnicamente non è neanche una notizia, in realtà me ne fotto un po' penso ve ne fottiate pure voi sto parlando della linea di Selena Gomez per Puma che ha creato, bla 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 fondamentalmente non me ne frega un cazzo questa roba è semplicemente dire ma quanto cazzo è fregna Selena Gomez io sono innamorato di Selena Gomez da quando ho tipo 11 anni Selena Gomez, visto che so che segui tutti i miei video per favore scrivimi nei DM di Instagram ti aspetto, per favore ti sto aspettando veramente dal 2011, baby, ti aspetto notizia che forse interesserà a tre persone perché le ragazze che mi seguono sono veramente pochissime Ambush in collaborazione con Nike collezione veramente fighissima se fossi una tipa mi riempiare di sta roba le magliette, le scarpe sono una roba assurda i pantaloni veramente rega... regazze? non so se dirlo compratevi sta roba spacca la collezione dovrebbe uscire domani, ovvero il 3 dicembre mentre le scarpe sarà una roba molto più lontana unico problema usciranno solo a Parigi, Shanghai e Tokyo quindi forse penso ci sia più gente che può andare a Parigi magari che a Shanghai o Tokyo però le scarpe usciranno a primavera 2019 quindi di tempo per le scarpe ce n'è però se veramente siete della ragazza avete una ragazza fate qualunque cosa con delle ragazze prendete questa roba che spacca veramente un sacco Wes Lang torna a disegnare tipo il merch per Kenny West per i suoi concerti figo, a me sta roba non mi fa impazzire oddio però molto meglio questo qui di moltissimi altri merch di tantissimi altri artisti anche se tutti ballano anche se un sacco di gente in questo ultimo periodo si sta applicando veramente tanto per il merch cioè io mi ricordo una volta il merch dei concerti era veramente una merda tipo c'era una foto del tipo una cosa qualunque c'erano le date del tour dietro bella lì e ci vediamo al prossimo concerto grazie per avermi comprato la maglietta mentre adesso ci stanno mettendo un sacco di design io l'unica maglietta merch che ho mai preso di un concerto sì è stata quella del concerto Itiner the Creator del 2015 o 16 a Milano che restano le mie magliette preferite ve la farei vedere ma in un cassetto non c'è voglia di tirarla fuori ed è veramente figa penso sia uno dei mie ricordi più belli di quel concerto in ogni caso se volete acquistare questa roba c'è anche dal link di Easy Supply quindi potete acquistare il cazzo che vi pare nuova collaborazione fra Bape e Ralph spacca internet è uno dei pochi film di animazione tra l'altro mi pare sia della Disney che io non ho visto né Ralph spacca tutto né Ralph spacca l'internet la collezione con Bape è abbastanza sobria e tranquilla come praticamente tutte le altre collaborazioni di Bape che ha fatto con tantissimi altri cartoni, film, qualunque cosa sincero non mi aspettavo niente di fuori di testa comunque una collaborazione carina beh se la volete acquistare passate nei Bape Store Parigi, ovunque volete andare che penso che sia abbastanza facile da prendere dopo i cazzotti che si sono presi quelli di Dolce & Gabbana la settimana scorsa con i vari problemi con l'anno nuovo cinese la sfilata nei soldati cinesi adesso Nike si lancia sempre con la roba cinese con queste nuove scarpe ispirate all'anno nuovo cinese queste scarpe ragazzi sono una follia sono una roba fuori di testa per quanto sono fighe io non le metterei mai vi giuro che non lo so penso proprio che non le metterei però sono fighe sono le Air Max 98 con un sacco di colori un sacco di disegni che richiamano animali piante fiori c'è veramente di tutto dovrebbero essere lasciate il 5 febbraio almeno penso visto che l'anno nuovo cinese è il 5 febbraio e sono veramente fighi i dettagli con la vernice rossa ragazzi state vedendo le foto non c'è bisogno che parlo per due ore se potete prendetele sono una bomba se poi tipo riuscite a metterle perfetto non so se vi ricordate settimana scorsa vi ho parlato della collaborazione fra Air Jordan eh fra Jordan praticamente e Soulfly il negozio di Miami queste Jordan 1 che abbiamo visto che ricordano moltissimo le Shutter Backboard però al posto del nero c'è il verde molto scuro dovrebbero essere rilasciate l'8 dicembre però soltanto a Miami qualcosa da dire su queste scarpe allora a me le Shutter Backboard piacciono molto sebbene l'arancione non sono dei miei colori preferiti però queste qua non mi dicono veramente un cazzo perché sembrano non so se siete presenti quando mettete moltissime delle scarpe stanno tanto al suolo comunque qualcosa di nero che si sbiadisce diventa una specie tonalità verdognola queste scarpe mi sembrano avere quella tonalità vi giuro non mi piace il colore di questo verde qua mi sembrano le scarpe rovinate e vecchie non lo so come dire però la cura dei dettagli è veramente buona la qualità della pelle sembra veramente ottima per delle Jordan 1 quindi se volete acquistarli siete a Miami fatelo se no penso che comunque i prezzi di resale saranno belli importanti queste scarpe qua devo leggere il nome perché è veramente un casino le Adidas Consortium ZX 4000 4D Future Craft che non è una mod di Minecraft di un undicenne ma sono queste scarpe qua molto tamarre con la suola in 4D che sembrano carine mi ricordano un po' per la silhouette l'equipment che sono già uscite tempo fa la suola in 4D sono veramente curioso di provarla non ho mai avuto un paio di scarpe in 4D non ho neanche mai provato un paio di scarpe con la suola in 4D quindi non lo so dovrei provarle per vedere in ogni caso dovrebbe uscire nel periodo della Spring Summer 2019 quindi fra ancora qualche mese sincero non so se prenderemo queste scarpe anche perché il prezzo di retail dovrebbe essere di 350 dollari ovvero un prezzo molto alto di retail per delle scarpe però a boda in generale sono carine notizia interessante per tutti quelli che seguono Supreme me compreso da diverso tempo a Los Angeles c'è un'esibizione di vari collezionisti dove mettono tutti i pezzi tutti gli accessori di Supreme mai rilasciati dall'inizio fino adesso tutte le tavole di Supreme mai rilasciate dall'inizio fino adesso secondo me gli accessori di Supreme e soprattutto le tavole di Supreme sono alcune delle cose più iconiche che ci sono riguardante quel brand molto più magari di magliette e felpe cose così e quindi secondo me è veramente una roba figa questa specie di mostra che hanno creato per questi oggetti sincero se fossi a Los Angeles mi catapulterei per vedere tutto le tavole sono una valanga gli oggetti anche vi lascio il link qua sotto se volete vedere le foto anche se penso che già le starete vedendo veramente se mai qualcuno mi dovesse seguire da Los Angeles comunque magari andate a Los Angeles in questo periodo andate a vedere questa mostra perché è veramente penso non ve ne piantirete mai Off-White parliamo di Off-White allora come sapete io non sono il più grande sostenitore di Off-White del mondo ha rilasciato un sacco di roba figa ha rilasciato un sacco di roba di merda non potete dire il contrario per aggiungere altra roba alla roba di merda ecco qua queste ciabatte di Off-White al modico prezzo di 250 dollari che ricordano tantissimo le cose super fake prodotte dai siti cinesi fatti tipo Off-White avete presente tipo le Yeezy in collaborazione con Off-White con la band ok sono veramente brutte sono delle ciabatte normalissime sono identiche tipo cazzo ne so quelle dell'Avidas da 20 euro con in più tipo lo strap dietro come le crocs di merda che potete allargare e stringere con tipo il logo Off-White spamosissimo e tipo la battuta ah left right come magari sulle covers in collaborazione con Off-White sincero queste ciabatte non sono neanche cioè non sono un cazzo sono delle ciabatte normali con dietro una strap di gomma attaccate per far allungare cioè sono veramente una cagata ha preso delle Adidas e le ha fuse con delle Crocs e non so quanto sia un mix vincente soprattutto questa roba spamosa di Off-White Sincero non le prenderei mai e dopo Off-White passiamo a uno dei miei brand preferiti tutti lo conoscono il mio amore che ho per questo brand ovvero Balenciaga cosa ha fatto Balenciaga ha rivoluzionato le Balenciaga Triple S aggiungendo una nuova feature ma soprattutto 150 euro al prezzo di questa scarpa che già aveva un prezzo veramente modico e base ovvero prendendo spunto da tutte le critiche che hanno avuto ovvero le tue cazzo di scarpe pesano 2 kg l'una Balenciaga cosa ha deciso di fare magnanimi come sono hanno deciso di modificare la scarpa e aggiungerci l'air dentro quella cazzo di suola quindi fondamentalmente hanno fatto delle Balenciaga X e Ermac le scarpe restano alla stessa merda di sempre con questa specie di area che dovrebbero renderle più leggere anche se sono veramente curioso di vedere come sono più leggere queste Balenciaga Triple S e queste scarpe saranno vendute al modico prezzo di 1125 dollari nei vari negozi di Balenciaga quindi se riuscite a andare in un negozio di Balenciaga e sollevarle ve le potete portare a casa per questo modico prezzo comunque anche questa qui mi sembra una presa per il culo come cazzo fa Balenciaga a creare questa roba in quest'ultimo periodo ma tanto vendono quindi va bene lo stesso in ogni caso io vi ringrazio se siete arrivati fino alla fine del video queste qua sono tutte le notizie per oggi spero che questo video vi sia piaciuto se è così mettete mi piace iscrivete al canale che voglio arrivare a questi cazzo di 20.000 iscritti entro la fine dell'anno io vi voglio bene seguite su seguitemi su instagram io vi voglio bene bella comunque raga sto montando il video mi è venuta in mente una cosa un cop che vi consiglio tutti quanti il calendario dell'avvento della Milka come penso già sappiate mi ha pagato 10 milioni di euro per fare questa scena è veramente buono sta cazzo di cioccolata della Milka è buonissima quindi prendetelo ve lo giuro Cristo di l'acqua